bella riga buonasera si sulle 6 quindi buonasera come va avete passato un buon natale sono stata la prima bella ciao da posto stavolta live pubblica perché adesso vi spiego ma come ecco sta cominciando stavo dicendo che in pratica prima ho provato a startare la live solo che avevo messo non in elenco quindi era una live privata e non capivo perché dopo tipo due minuti non entrasse nessuno mi sembra un po strano poi ho visto che cacchio la live è privata ops opsi weyla tutti ciao ciao a tutti come state spiegatemi un po ne siamo in quattro siamo in 184 cioè il quattro c'è pronto dopo ecco bella ce n'è già uno da bannare guarda che bello ma si ma non l'ha fatto certo che penso io a bannare va bene va bene ti amo uh rivelazioni i love you come stai lucas ho un po di mal di gola strano e raffreddore però tutto bene grazie tutto bene voi state passando delle belle vacanze senza la scuola si senza la scuola finalmente mamma mia queste vacanze qua ci volevano mi raccomando ragazzi asciutto un bel pollicione in su tanti tanti minimo dobbiamo arrivare a 100 siamo a 50 quindi io direi che un dignitoso 100 ci sta c'è un fantasma dietro di me cavolo dove l'hai visto aspetta che ci faccio tre video sopra dove c'è un fantasma dietro di me da dove vieni da marte no sono di brescia raga sono di brescia e voi di dove siete allora allora hai tanti compiti per le vacanze ma in realtà neanche neanche troppi poi ho visto che anche i miei amici comunque c'è sì ne hanno un po però non esageratissimamente esagerato terlizzi calcio 2005 te lo ricordi grande terlizzi ciao tutto bene io cremona bella vel cremona anche sono di brescia anch'io sono di brescia quanti di brescia qua in questa live si ovvio voi ovvio palese tutto a posto quante note prendi al giorno e cavolo non così un brutto alunno al giorno invece quest'anno non ho presa neanche neanche una ma in realtà anche neanche l'anno scorso forse hanno presa non ho presa presa due per dimenticanze però non sono note queste ragazzi le note sono quelle disciplinari quelle che ha spaccato l'albero di natale l'alunno pier luigi se ci sono queste le note non penso siano le dimenticanze che secondo me non ha molto senso mettere una nota sul registro con scritto dimenticanze però vabbè vabbè lasciamo stare lasciamo stare la scuola che adesso non ci dobbiamo ancora pensare o meglio in parte per i compiti delle vacanze però per ora non c'è anima cosa fai domani domani raga è capo d'anno si festeggia tutto l'anno domani domani cosa che faccio ah c'è stato un casino raga in pratica dovevo andare a casa del mio amico tutto organizzato tutto bello organizzato così c'erano penso una 15 anni di persone gente ci scrive ieri il nostro amico quello che c'era appunto la disponibilità a casa sua niente questo qua sta male sta malissimo altre giorni quindi niente non si può più fare festa e abbiamo dovuto cambiare località come come si può ora come si può solo pensare una cosa del genere che il 30 no il 29 ci dai pacco per per il 31 cioè porello non per colpa sua però cavolo che sfiga quando rivai alla sala giochi di rovato quindi penso in tenda le porte franche non lo so vedevo dei ragazzi l'altra volta che ci siamo andati quando è che era due settimane o settimana scorsa due settimane fa che che mi guardavano di solito io comunque lascio abbastanza perdere perché c'è non è che lascio perdere però vuoi che magari siete voi ad avere un po di coraggio per venire anche perché io non è che mangio con nessuno cioè sono un ragazzo normale e se magari mi seguite così mi fa comunque piacere no però cavolo li vedi lì che tipo sta imparando di te magari non so se sta imparando male o bene però se li vedi col telefono con l'amico durabilità degli youtuber di oggi durissima durissima perché i commenti sono disabilitati raga io purtroppo non ci posso fare niente cioè vorrei ma non sapete quanto vorrei avere i commenti abilitati in questo momento ci sono disabilitati da febbraio per colpa di youtube se si può dire sì perché le loro regole loro per le loro per le loro restrizioni in pratica c'è papà di luca come c'è papà di luca ecco bene bene ecco non ci loro diciamo per tutelare i bambini da eventuali manintenzionati che fanno i commenti cosa hanno deciso di fare hanno disabilitato tutti i nostri commenti quindi è assurdo raga abbiamo reclamato ma ciao quante volte aveva reclamato però non c'è niente da fare per il momento dobbiamo stare così fino a che luca non copierà 18 anni si infatti tra meno di due anni si dai tra tra meno di due anni meno di due anni un anno e nove mesi la raga attivata il countdown precisino mamma mia come conosciuto la eleonora olivieri allora la eleonora olivieri l'ho conosciuta al ritrovo se si può dire della nostra agenzia e quanto tempo fa aprile febbraio no febbraio scusami febbraio c'è stato il c'è stato l'incontro della nostra agenzia e poi niente è venuta lei a dirmi si è venuta a salutarci è venuta a salutarci e fa che ogni tanto così guardava i miei video quando ero più piccolo e dopo lo faccio anche io guardavo i tuoi video così e figata comunque si poi abbiamo detto magari ci incontreremo un giorno per collaborare fare dei video da febbraio siamo passati a dicembre perché impegni vari e vabbè impegni vari è figo tuo papà grande valentina tu si che hai l'occhio hai l'occhio cioè faccio così l'occhio e lo chiudo hai visto ho sbagliato hai l'occhio se ti dono mi sponsorizzi palese come tutte le volte che qualcuno ci dona anche una minima cifra noi siamo soliti a salutare e sponsorizzare ovviamente chi donerà di più avrà un come si dice un come si dona con la super chat con la super chat max la sta chiedendo 800 milioni di volte si dona con la super chat trovi il tasto in parte a dove commenti oppure in descrizione c'è il link stream labs che è meglio che è meglio perché è meglio perché ci piace di più perché ci piace di più grazie grazie prego prego di nulla comunque ho già perso il nome di cosa max comunque se vuoi donare dona con stream labs che che è meglio che preferiamo allora dono su stream labs bella grande o raggio 0 5 2 euro grande o zaiga un euro bella grazie mille raga seguiteli seguite zaiga cliccate lì sulla donazione raggio e raggio 0 5 seguite pure lui come ragioniere 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 mi consente mi consenta ragioniere cavaliere è vero che liceo fai ma raga ma perché i superiore sono tutti consigliati licei io non ho mai capito sta cosa il tecnico dov'è che lo lasciamo è scontato è scontato è scontato si so che sono un uomo di cultura molto avanzata e molto elevata però vabbè comunque a parte gli scherzi faccio un tecnico istituto tecnico si chiama itis fuori moda magari non so una ragazza conosce solo liceo quindi vabbè lucas perché non attivi gli abbonamenti si potremmo attivare ma per attivare gli abbonamenti dobbiamo dare un plus si dobbiamo dobbiamo dargli comunque un e dobbiamo studiare bene che cosa fare ti dono 100 euro va bene grande donali su stream labs bravissimo parapparappappà parappappero vediamo 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 andiamo a vedere today today ci sono stavo proprio guardando il tuo video con l'onore olivieri e quando ho visto la tua live l'ho tolto subito dopo vanno a rivedere però il video mi raccomando bisogna fare degli sticker per gli abbonati eh ma gli sticker ci sono già in teoria quelli nuovi solo che magari non so tanto che comunque si paga un tot al mese per questa cosa qua degli abbonamenti cioè avere un gadget o qualcosa appunto per gli abbonati solo che è una cosa da studiare bene comunque ci abbiamo pensato ci è arrivata la mail che potevamo attivarli e e quindi poi quando sapremo sapremo cosa cosa darvi in cambio del vostro abbonamento vi faremo sapere comunque con una live con un post su youtube o con delle storie ma non hai capelli lisci allora raga questa cosa qua me la stanno dicendo anche su tiktok perché io ho fatto il video hashtag maturare ovvero da quando ero piccolo a quando oh hey you con la pera che balla raggio 05 è lo sticker ti ricordi lo sticker certo me lo ricordo raggio 05 grande raggio 05 grazie mille ed è la seconda volta che dona eh se devi donare dona su stream labs mi raccomando comunque ti ringraziamo ancora mi raccomando seguitelo raggio spazio 05 yes vediamo se c'è un canale raggio 05 c'è il canale oh 267 iscritti raggio però 05 267 padova no non padova facciamo vedere eh facciamo vedere raggio 05 raggio 05 in cucina con raggio ma te pensa ma te pensa in cucina con raggio oh brescia sassuolo 02 però eh che cavolo quindi è di brescia il raggio è di brescia gli occhi fatti in casa ma sei un cuoco è un cuoco con coraggio potrebbe che ne aveva descritto 267 269 mi stai descritto dai mi sento buono che perché siamo ancora se mi saluti ti dono 10 euro ecco va bene allora tic attenzione attenzione eccolo qua raggio scritto così 05 ecco lì oh 270 270 in tempo reale va su quel ragazzo mi raccomando seguite raggio 05 seguitelo mi raccomando scrivetovi yeah iscrivetevi dai 270 è già qualcosa no non è male a 70 pensa che anche a luca è partito da 0 eh sì sì infatti 272 raggio 272 grande grande bro grande grande allora hai la ragazza c'era scritto hai la ragazza no non ce l'ho raga la ragazza una ragazza uno come te cioè dico eh raga lo so sei brutto no infatti ho avrò dei canoni forse troppo alti hai dei canoni troppo alti non lo so però sono selettivo questa sì selective ti ho visto in centro ah dove? in centro di Brescia o in qualche altra città? eh infatti vabbè non è scontato sono stato a Milano Bergamo Cremona ciao Cernobbio 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 cosa c'entra? di Brescia ok ok cosa stavo facendo che magari non so mi ricordo la situazione verrai a Padova? Padova a Padova a Padova com'era quando lì? eh oddio hai fatto il tiktok oddio no no i sassi era a Padova? ma te arriva lì su Streamlava io ho tutto il controllo di tutto quindi si arriva che uno dice ho donato e non è vero ho donato 10.000 euro ecco esatto quindi non preoccuparti io ho tutto sotto controllo c'ho tutto sotto controllo grazie Giovanni Romeo che sei iscritto al canale grande anche Shub come è che si dice? Shub 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 has subscribed has subscribed anche Raggio05 si è anche iscritto al canale oltre che aver donato ha fatto tutto no no era già iscritto ah è vero è vero no queste sono le donazioni anche Zyga che ha donato grazie grande Zyga mentre Lorenzo Galante anche lui si è iscritto al canale ragazzi iscrivetevi perché qua vediamo in tempo reale chi si iscrive esatto e ricondi l'amica e niente abbiamo incrociato gli sguardi oh bella così tipo il tuo incrocio di sguardi ah incrociato così si è tipo così incrociato in questo modo oddio grazie Daniele Leocata si è iscritto al canale grazie Daniele grande Daniele poi abbiamo Salma e Miriam anche si sono iscritte al canale e anche Lilia Stirbu e Matteo Dal Zuffo e Chiar e Arnaldo Santi e Publifarm Giulia P. ma raga lo volete vedere il papi con gli occhiali dai vediamo il papi con gli occhiali ragazzi ho dovuto mettere gli occhiali aspetta ma era per vicino o lontano? questi sono per lontano per lontano e gli altri sono per lontano mamma mia raga che bello aspetta che mi metto i due cerchi qua eh si è apposta degli occhi come sto? come sto? come sto? ci sono tatrassi guardate così con i due cerchi così come sto? come sto? i cerchi che figata però visto? come sto? come sto? sono andati via sono andati via fammi una cortesia nel mio taschino no non c'è ci sono 700 euro in contatto no non c'è perché l'ho lasciato in macchina che figo il papate grazie mi piacciono i cerchi della Ring White e quindi è per questo che io toglierò gli occhiali per tenere fastidio a me figuratevi a voi ma intanto Aurelia Stancu ha deciso di seguirti Franci Show Arnaldo Santi e anche Daniele Leocatta bella grazie ragazzi grazie mille grazie mille Camillo come sto? che ho ucciso sta trap c'è la Lisa che sta facendo tinta di scoprire piani per il 2020 2020 ah già c'è il 2020 mi sembra di dire 2020 2020 che cacchio è? fra come si fa a donare? allora qua sotto in descrizione c'è il link per Streamlabs lì puoi donare puoi donare tranquillamente tranquillamente e oppure la super chat di di YouTube 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 ma se volessi iscriverti com'è che devo fare? allora mi scrivi su Instagram lucas.official mi raccomando seguirtemi se non lo fate ancora e appunto mi scrivi oh yeah Emily Calistri ha deciso di seguire Lucas Clau Canizzaro The Crazy Player YouTube aspettate un attimo che devo andare a soffriarmi il lancio ho finito anzi ragazzi vi faccio vedere una bella cosa pronti? no ecco la qua la lisina ma cos'è quel pesce lì? eh? cos'è? aiuto aia dai aia è il pesce per lisciare la barba no? che cos'è? ah ma è quello di dare la doccia? per pulirsi così per fare lo scrub ecco qui la lisina sta studiando guardate che c'è qua i compiti e tutto visto? Luca ammazza un elefante Luca ma che cos'hai accumulato? una narizia figurate se erano due o tre eh Lisa tre Lisa voglio un tuo video sul canale di Luca dove gli fai uno scherzo fate il solettico a Luca non li voglio più ricerche ma se dov'è andata a fare le spese sta scherzando Luca Lisa è andata a prendere il latte non sponsorizziamo Max come si chiama? Lisa è lo stesso oddio va troppo veloce va troppo veloce la chat mi devo ripigliare vado a vedere mi ero già seguito in un bel po' su Instagram bene ragazzi grandi molto bene di nomi di chi ti ha seguito su Instagram ragazzi diciamo poi i nomi di chi mi ha seguito su Instagram negli ultimi 5 minuti allora Lara trattino basso pavo trattino basso ari punto trattino basso trattino basso trattino basso trattino basso guardi no eh sì guardi trattino basso eh sì non lo so poi aspetta Lori Emanuele fanpage ok ok Giorgia trattino basso bianne e Marzia Galante logicamente sono tutti da seguire tutti da seguire tutti da straseguire straseguire tutti aiuto come sto come sto quanti ma ho possibilità che tu mi risponda penso di sì ecco purtroppo ragazzi ci sono un sacco di commenti li vedete anche voi e ogni tanto se ne piglia uno però la maggior parte sfuggono sì infatti non possiamo adesso letti con Luca cosa dici che cosa dici io non riesco bene a vedere allora è un bel casino perché perché scorre troppo veloce la chat ma non puoi tipo fermare col cursore ho capito ma poi mi perdo tutti gli altri messaggi è vero hai ragione ragazzi siete troppi cavolo troppi 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 ciao Luca com'è tutto a posto se lo youtube è più bravo del mondo vai qua raga superato il mondo ti piace la scuola ti piace la scuola mi permetto di fare una cosa come ti sei permesso come ti sei permesso hai visto fate il sullettico eh ma ce l'hanno in piedi questo sullettico è sempre lo stesso che non ti visto ah è sempre lui allora instagram lucas.off il grande terlizzi calcio qua ci vuole una statua per terlizzi ecco bravo ogni tanto un po' di pubblicità capelli in faccia allora 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 vi vieni a Bologna che fai a capodanno me l'ho cominciato a seguire in 33 bene di i nomi di tutti i 33 dica 33 33 33 trentini allora ci diciamo poi con trattino basso ok trattino basso auro no aurora aurro 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 ricominciamo trattino basso aurora aurro trattino basso vito fedel 07 dillo bene perché dopo gli altri devono seguire queste persone che stanno seguendo te c'è tutto un su seguirsi di su seguis ok vito fede 07 si maria francesca trattino basso cervellino trattino basso allora perché si fosse sintonizzato ora luca sta leggendo i nomi i nomi di chi lo sta seguendo su instagram esatto lucas.official esatto quindi queste persone che stanno seguendo luca adesso le sta menzionando seguitele mi raccomando mi raccomando seguitele mi raccomando leggi i nomi sono 30 40 quanti sono si un bel po' poi abbiamo albo quanta enfasi l'ho detto albo albo 0 9 6 7 non so se sia un un 0 9 6 7 vabbè comunque andiamo avanti vt8 0 9 non ho capito perché vt8 e poi c'è lo 0 9 vabbè questo commento era un po' che non lo leggevo Stefania dice lucas mio figlio ama il tuo canale e ti ringraziamo ringraziamo grazie mille lo puoi salutare in un video oddio da quanto da quanto tempo è che non sento mi puoi salutare in un video io da poco perché me lo chiedono ogni 30 secondi ogni 30 secondi come si fa a salutare in un video è impossibile cioè tipo oggi abbiamo fatto hai fatto il video ricordami il titolo ah social versus realtà social versus realtà come fa è interrompiamo il video perché dobbiamo salutare pinco pallino no dai ok riprendiamo salutare in un video no no è impossibile salutare in un video è impossibile vabbè comunque non si può comunque grazie Stefania grazie mille salutiamo qua tuo figlio ecco esatto salutiamo tuo figlio mio figlio poteva morire mio figlio poteva morire non hanno più fatto quella traduzione cavolo davvero ma sai che sono venuti pure in Italia quelli a te pensa mamma mia e poi basta non si sono più sentiti perché hanno chiuso il infatti basta andati a Napoli per caso stuzzicadente non lo so stuzzicarmi stuzzicarmi Luca una domanda che squadra tifi questa domanda me la fanno in tanti raga solo che fortunatamente fortunatamente non tifo nessuna squadra ottimo sono contento mamma mia raga come si chiama il canale ma di qual canale sta parlando di Instagram penso allora su Instagram raga per chi ancora non lo sapesse mi chiamo lucas.official quanto sono minaccioso con l'uffizicadente no infatti fai paura lucas.official mi raccomando seguitemi tantissimi che sto leggendo alcuni nomi sto leggendo alcuni nomi infilzo infilzo fai paura oddio per esempio un nome a caso che cos'è che vuoi fare Federica trattino basso galeano oppure ma cos'è che stai facendo sto leggendo i nomi delle persone che mi stanno cominciando a seguire ah ok non riuscivo a capire su Instagram su Instagram ok no su Instagram no vabbè su YouTube ok Sara trattino basso Deka trattino basso trattino basso un po' di trattini un po' di trattini attiva la modalità lenta perfetto ecco bravo che 60 secondi a persona cavolo adesso limitiamolo metterla lenta ok salvato salvato perfetto no perché se no non si legge più un tubo soprattutto chi continua a fare coppia e incolla coppia e incolla coppia e incolla coppia e incolla lo stesso messaggio 800 miliardi di volte mamma mia assurdo oh adesso abbiamo rallentato la chat perfetto ecco un attimo ci siamo ci siamo allora trattino basso trattino basso chiara trattino basso chiara perché ha scritto con tante a tantissime poi about trattino basso chiara ancora dai un'altra te lo giuro sono amiche sono amiche mi aiuto io muoio poi ce ne sono tanti altri ma stai leggendo solo le femmine o puoi leggere le uniche con l'altro leggere le uniche con l'altro quando sono femmine leggi lucas.official franci trattino basso show poi emiliano trattino basso padellaro padellaro sei matto poi abbiamo allora io farò un po' fatica a leggere questo nome però leggilo senza trattini no no io leggilo con il trattini dai leggilo con il trattini o su gli underscore gli underscore A trattino basso N trattino basso D trattino basso R trattino basso E trattino basso trattino basso B trattino basso I trattino basso L trattino basso L trattino basso O ma che non è ma non si può fare un nome così ma è legale ma è legale questa cosa vuoi non trovarlo scusa io non lo so comunque è Andre Billo Andre Billo tutto ciò casino per Andre Billo vediamo chi altre persone che seguono Luca aggiorna Alex punto chiaro Alex punto chiaro bella bea Alex poi Daniele trattino basso Calisti Calisti di luna ma vediamo vediamo se arriva una donazione così andiamo a fare un po' di pubblicità un po' di pubblicità al canale come abbiamo fatto prima per raggio 05 esatto che è 273 iscritti che non è male vediamo se c'è qualcuno che facciamo una una breve sponsorizzazione non è che facciamo chissà che cosa ti ho seguita però come seguita ti ho seguita perché sei una femmina va bene Luca Luca non fa una piega Luca finisce con l'A sei 2003 sì sono 2003 già ero 2003 sì mamma mia scusate la piccola interruzione ma la Ceci ci ha interrotto ci ha chiamato direttamente anche a noi vai è la ancora stella al vivo scusate noi siamo ancora online ok è la Ceci che ci sta chiamando chiamandolo con un altro telefono ma gliel'abbiamo detto che facciamo una diretta non c'è cagato gli strisci mi dice il suo numero rifallo non è qua però non è troppo la spesa in teoria in teoria io ho 9 anni e non ho visto davvero c'è il suo numero eh quello farà prima o poi prima o poi ti piace di più ti piace di più la verdura o la frutta la frutta decisamente la verdura dopo un po' sì in realtà sì pepsi o cosa cosa pepsi o cosa allora cosa 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 mi passi qualcosa che diceva cosa cosa era un tenente che c'era la militare ma per te aiuto cosa ne pensi che godo come un riccio come un riccio appena nato appena nato da poche ore ma non era anche quello che diceva godo come un riccio godo come un riccio godo come un riccio ma no godo come un riccio interessa qualcuno no fra quanto arriva la ceci e io che cosa ne so pepsi o coca cola acqua naturale sapevi chi era anna frank certo che so chi è hashtag trattino basso hashtag trattino basso godo come un riccio mamma mia che bello raga quel ragazzo lì è è il mio idolo la tua età la mia età io alle spalle ho tanti anni io ho 16 anni sì ho 16 anni hai mai preso un 3 no però ho preso un 2 di picche bella sei il mio idolo bella hai tanti anni dietro il mio mi raccomando ragazzi seguitemi su instagram che adesso mi chiamo lita che adesso comincerò a vedere qualcuno che mi ha cominciato a seguire in questo momento io per adesso ho questa schermata qua tra poco la aggiorno e vedo che mi ha cominciato a seguire cavolo mi saluti plays plays ciao ha 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 anche la mia migliore amica dice godo come un riccio ha 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 io avevo un instagram a un ragazzo mi ha scritto cose brutte e l'ho cancellato no ma come no ma come fai vedere i muscoli e se piacciono alla mia ragazza ti dono 10 euro vuoi fare questa sfida non te lo consiglio perché poi non puoi chiudere perché poi non avrei più soldi ciao come stai ciao gaia tutto bene tu a gaia no non quella gaia bella c'è un bicchiere lì per caso quella è il mio bicchiere lì si esatto puoi bere mamma mia paura eh paura io allora 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 vediamo un po' che lavoro fa tuo padre lo spazzino no lo spazzino lo spazzino l'operatore ecologico l'operatore ecologico faccio servizi internet alle aziende ma c'è un ragazzo che mi ha scritto che se faccio vedere il mio fisico e piace alla sua ragazza mi dona 10 euro quindi io gli ho detto che cavolo tra poco questa è la vincita facile è la vincita facile più che altro potrebbe perdere anche la ragazza il rischio è anche quello ok ora aggiorniamo raga vediamo cos'è che non si vede un tubo comunque la gente che mi ha cominciato a seguire ah ok ci sono io ci sono io c'è anche l'alisa ma come ci sei tu ma perché perché hai iniziato adesso segui blu no no però ha fatto il giochetto di di seguire sì allora abbiamo Kat trattino verso Harry poi abbiamo Andre punto Cirz poi il trattino basso biondo trattino basso trattino basso 04 e cos'è che abbiamo abbiamo colui che ride questo nome qua è arte questo nome qua è arte e Gaia punto Galeota perfetto sei stanco mi piace la tua famiglia multiculturale penso un po' penso un po' fai una una smr no raga io non sono buono con gli smr ragazzi vorrei sentire una cosa davvero speciale cosa non hai le unghie ciao l'index smr oh però sono aumentati gli utenti oh funziona luca oh funziona facciamo il canale smr luca c'è il canale smr no ti ricordi quella ragazza la giapponese che mangiava con me ma che schifo c'era una ragazza che aveva avuto un espload assurdo però cavolo vedi sui video mangiava tanti di quegli zuccheri che deve andare dal dentista tipo subito si ma il bello che di solito non so magari uno mangia una porzione di quello che c'era che c'era lì no lei mangiava tutto oh due euro blade thunder Kobe Bryant Kobe Bryant 3 points dung shot cos'è che era la schiacciata eh sì allora blade come sangue tender grazie della donazione blade thunder andiamo al canale di blade mi hanno detto di fare 20 flessioni dopo 226 iscritti per blade tender e abbiamo questo blade tender facciamo 227 facciamo vedere un attimo in tempo real in real time in real time allora qua blade thunder ecco lui ecco stui ecco lui blade thunder eccolo qua ecco lui che questa è la schermata di blade thunder è scritto così tuo papà è troppo simpatico grazie grazie blade blade thunder è a 227 ma presto andrà a 228 infatti lo sapevo e questo è il suo channel canale costruisco un allevamento costruisco un allevamento vengo trovato da un raid su minecraft provo a trovare il bottone in questa e dovete andare a vederlo raga ok mi raccomando seguite il nostro amico blade thunder che a 230 stanno arrivando amici che si iscrivono da ogni dove paese incredibile oh my god se dis iscrito ma forse è sbagliato ora ora ritenta apertura eccolo lei passa la palla si attraversa area prendo la palla schiacciata yeah siamo a 230 dai dai 4 si sono iscritti mi raccomando blade thunder dai scusate la telecronica la piccola interruzione è molto conosci la vedo vatti certo la vale 233 nel frattempo nel frattempo 236 cacchio assurdo 20 in più grande blade follow 238 nel frattempo raga 233 fai una live su Ticket.hawk anche pure e che ti sdoppi che mi sdoppi e sdoppiamoci che fanno i globuli rossi posso anche farlo in realtà ti sdoppi mi sdoppi cosa vuoi fare ti sdoppi oddio puoi fare la doppia Inception e pure su Instagram c'è una donazione c'è una donazione un Kiri Aquino no Cri 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 Aquino grazie mille C-H-R-I adesso Cri Aquino dove va a sdoppiarsi ti va a sdoppiare ti immagini se poi tornano due Lucas fighe Cri Aquino com'è che è scritto Cri C-H-R-I Aquino senza la C-Q Aquino A-Q con la Q Aquino con la Q di Q senza la C con la Q di Q ma cos'è che ha donato un CHF è un franco svizzero è un franco svizzero e quanto è un franco svizzero? 1 euro 20 mila euro 20 mila euro 20 mila euro quanto è un franco svizzero? Cerco io Cerca dai Alexa quanto corrisponde un franco svizzero in euro? Un franco svizzero ti vai a circa 92 centesimi 92 centesimi A proposito una nota che mi ha insegnato la tua voce posso iniziare a rendere la tua esperienza con Alexa più personalizzata Ah ok Non credi che è un momento per farlo adesso No No grazie Isa Aspetta che ti mostro Quindi abbiamo il nostro Cri Aquino con 4 e dico ben 4 iscritti 4 Cri Aquino Ma dov'è che è il cavallino diretto? Però non ha non ha non si c'è non è un video non ha video Luca su Luca Luca Cos'è che vuoi cercare? Ah è sopra Luca adesso arriva è andato un attimo a cercare che non so cosa Ah il treppiede? Il treppiede si Eccolo lì Per fare il doppia live Oddio farò la doppia live su tiktok e live su youtube Siamo pazzi Siamo pazzi We are crazy Bro Quindi fai anche su tiktok Bravo Luca Sì Tra l'altro ragazzi sono attivissimo su tiktok Davvero? Sì davvero Non l'ho mai visto Addirittura anche due milioni No anche tre Anche tre Ma questo qua è un po' smoke comunque Ma perché hai preso proprio quello smoke ma non ce n'era un altro No Ma no Sei sicuro? Allora rivedere Allora rivedere Veloce che qua la gente deve andare a cena poi tra poco è l'ultimo dell'anno Allora vediamo un po' Fai trenta flessioni Eh raga Fate presto voglio dirlo Sì Tra lì e le fare Come questo qua non c'è lì C'è di mezzo Dai ordinati 4-5 di cavalletti Adesso Fariscono come le penne Come le penne Vabbè Niente Vabbè Luca Lascia stare Mica lì sul divano Adesso vi racconta questa roba qua delle penne raga Adesso Luca vi racconta la faccenda delle penne Sì questa roba qua assurda raga Sì Che in casa Zanotti Esatto Ogni volta non si sa come non si sa dove Se io compro sempre confezioni da 12 di penne Tipo quella là E allora che c'è la scatola Dove? Vuota Quella là in cima Quella là nera In fondo A sinistra A sinistra A questa Ecco È già vuota No no Tipo questa No È una confezione di 12 di penne Immancabilmente nell'arco di qualche mese rimaniamo senza penne Io devo comprare ne altre 12 Ma 12 eh 12 alla volta ne condono due 12 Caspita Ma dov'è che le fate finire Non lo so Io non lo so O le anaccultate L'abbiamo rivisto l'altro giorno con la mamma E la mamma ha riso Ma ciao Di bestia Vabbè Lei è meno emotiva di noi Vai la mia sul piccio Pane su pane Lavora il pane Ficcio Cittagucci Faccio la bella vita Baby la fortuna Come E c'ho la gang Detro me E beh è una canzone Devi mettere questo in modo che Valla qui Che razzo stai facendo Dai Che razzo Cos'è? Devi fare la live Scrivi Scrivi Luke Non senti quando utilizzi La posizione Togli quella roba lì che hai scritto E devi fare una bella descrizione Allora adesso mettiamo Una bella descrizione Su tiktok Per la live E scriviamo Come si dona? Nel link in descrizione Qua sotto Oppure con la super chat Però Se volete Meglio col link in descrizione Ok Steve Labs Cosa che scriviamo Come titolo? Anche qua Ultima live No Dai Facciamo un titolo Più cattivante Vedè la disco No siamo Allora Mangiamo Vuoi scrivere che Mark Quando hai detto Alexa Si è attivata la mia Esatto Alexa Come si dice Il gatto nel carbone? Non so Scusa ho sbagliato Alexa stop Alexa Come si dice Il gatto nel carbone In tedesco? Alexa Volume 10 Ramado 10 Non esiste neanche Si si Alexa Come si dice Il gatto nel carbone In tedesco Il gatto nel carbone In tedesco Si dice Ti cazzo in dercuna Questa la sapevate? Oh è tedesco eh Guarda che tedesco Non è mica una parolaccia Anche il vostro Alexa Si è attivato? Infatti Magari Ha detto la stessa cosa In finlandese Vabbè Allora 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 Senti Ok Che titolo scrivo? Che titolo scriviamo? Siamo due live Contemporaneamente Dai Oppure possiamo scrivere Vi facciamo vedere Il nostro Nutella Biscuiti gigante Che abbiamo già mangiato No Ci sono delle fette No effettivamente Ci sono delle fette Si sono là Dai Scrivi Scrivi così Scrivilo Cosa scrivo? Vi facciamo vedere Il nostro Nutella Biscuiti gigante Certo che puoi L'abbiamo fatto apposta No l'abbiamo fatto veramente Raga Solo che No Eh troppi caratteri Nutella Biscuiti Troppi caratteri Si Perché mi sa che va al doppio Quando faccio Ecco Ecco il nostro Scrivi Ecco il nostro Nutella Biscuiti gigante No ragazzi Cioè Lo stiamo scherzando Ce l'abbiamo davvero Solo che L'abbiamo fatto Precedentemente Adesso è un po' Smacciullato Però è qua È qua da mangiare Anzi Ecco il nostro Nutella Biscuiti Mi fa scrivere Solo questo Nutella Biscuiti Vai Non mi fa scrivere Non mi fa scrivere Non mi fa scrivere Non mi fa scrivere di più Mamma mia Perché mi hai portato Questa roba Che adesso me la mangio Perché io adesso fome Luca vengo dalla Svizzera Bella Svizzera No No Svizzera No No Zulemani Dove andò lei Malfatto Malfattone Eeeh Alexa Come si dice Guarda il mare In finlandese Non parlo ancora finlandese Quindi ho inviato Una traduzione Alla palestra E quindi Non sapremo mai Ok Ciao raga Eccoci qua raga Abbiamo il nostro Il nostro Come si chiama Nutella Biscuiti Nutella Biscuiti Qui Gigante Enorme Ci abbiamo qua accanto A noi Giganteschissimo Giganteschissimo Giga enorme Giga enorme Va bene Ci piace come termine Giga 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 di roba Ti amo Devo dire ai papi Che fatti Scendi giù Che dite Ah ok Vado Vai La ciuci Vai a dare la ciuci Mi devo vestire Vai vai Quanto roba ho comprato Scusa Ah buono lo so Se mi saluti Vole come una stupida Ok Vole come? Alexa Ah no niente Scherzo 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 Aiuto Pane su pane La buona pane Ficcio Stai con lei? E chi lo so? Raga Fora dove direte Non è semplice Quando incontro Salita meglio Quando incontro salita meglio Sembra un handicappato Comunque Ragazzi Sono in live Anche su youtube Il Nutella Biscuit Ce l'ho qua in parte a me Aspetto che entriate In un pochino Così poi le faccio vedere a tutti Dimmi Sì sì Ma cosa fai? Una doppia diretta Però prima stavo invitando Charlie D'Amelio No scherzo Io sono molto più bravo Com'è che è il Nutella Biscuit Student? Ah Ups Non potevo dirlo Scusate Regalda Mi farete un regalo? No Fanno flex con i flash No Cos'è che hai detto? Scusa Fanno flex con i flash No No Fanno No Com'è che era la canzone? Raga Non mi ricordo più Fanno foto con i flash No Non ti conosco No Fanno foto con i flash Non siamo friends No Non ti conosco Non ti conosco A fine live Fai il repilogo Di chi ha donato? Ovvio Palese Palese Fanno foto con i flash Ok perfetto Io diventi orbo Ma in quel In quel TikTok Era la tua fidanzata? Ma io non ho una ragazza O forse sì Fanno foto con i flash Mi sono tolta la quella di YouTube Per essere qua Bella raga Sono in doppia diretta Ciao Ceci Ciao Ciao Oh un sun cream Grazie mille Elia Ciao Cavolo Ok Raga vi menziono qua Elia nei commenti Grazie mille Elia Dai Elisa Dobbiamo cenare Dai Elisa Su Sun cream Kla Emma Mi raccomando seguitela Ve li menziono qua Nei commenti Me gusta Tu sai cosa significa? Sì Mi piace Dopo Dieci Come festeggi domani A casa di amici Parapara Parapara Napoli Lui è bella raga Il Napoli Quanta spesa Dovevi fare una spesa Così molto leggera 150 euro di dispesa Un panda Un panda Grazie mille Elia Mi raccomando seguitelo Quattro panda Grande Elia Te la metto di lì la chat Sì Oh i suoi riccioli È merito dei miei riccioli È vero Ha ragione Ha ragione Tutto merito suo raga Ma sai che Mi ha voluto trovare il nono L'altro giorno Sì Ma mi ha telefonato Poi me lo spieghi Oh il 75 online Oh bella raga Il 75 Bella raga Bella raga Wow wow Di qua sono in 121 124 Sono in 74 Mi piace al 4 No ma ci piace al 4 Non ti sono andato a fare le spese oggi Già Bella raga Sì ma che poi dicono Andiamo a fare due spese 150 euro di roba Mamma mia È assurdo comunque Assurdissimo 2019 Addio no Dai raga Manca ancora un pochino La cosa più bella del tuo 2019 Vado Bravo vai Esatto Ci siamo capiti dai Ci siamo capiti raga Dov'è la ceci? È di là Sì stai mare La spesa Ti ricordo che hai due live Eh lo so Dov'è la ceci? È di là Di là Di là Elisa Mi stavi facendo sbandare Un sun cream Grazie mille Elia Lo yes man Lo yes man Bo ha donato un euro Bella per Bo Grazie mille Bo Mi ricomando Iscrivetevi al suo canale Di Bo Perché Bo Non lo so neanch'io Ma la ceci è tua mamma Prossima domanda Ciao tu dove festeggi Capodanno Casa di amici Fanno foto con i flash Sono riuscito a sincronizzare le live No vabbè Che figata Leggendo il titolo delle live Mi ha fatto venire fame Vedi Era questo l'obiettivo Era questo l'obiettivo raga Mi raccomando Se non lo fate ancora Seguitemi su Instagram Lisa mi dai un secondo il tuo telefono È mio Ah no però Su tuo telefono non ho il mio account È teoricamente sì Ma non ho il mio account Sul tuo telefono Allora ciao Vuoi il mio telefono Buona per vedere Un po' di nomi Di chi cominciava a seguirmi Instagram? Sì Ma io ho il computer Eh ma Posso vedere i nomi? Ah è vero posso vedere i nomi Cacchio è vero Hai visto? Sì sì Ho già salutato E ho detto di iscriverci al suo canale Forse Ciao Alessia Med Yt Ciao Come fai a fare la live? Devo avere più di mille follower Innanzitutto Cioè il doppio Lucas Doppio Lucas Raga Mamma mia assurdo Eccolo qua No no non è quello Ho capito comunque È captato Ho captato È qua guarda Ok Ah ok È un po' da aggiornare Sì però Vai lì Sì Lucas.official Siamo appena arrivati a 111 Ma dobbiamo subito arrivare a 112.000 Su Instagram mi chiamo Lucas.official E adesso Cioè tra poco comunque Guarderò i nomi di chi si è iscritto Sul mio Instagram E li saluto Ho tutte e due le live accese È bello un tot Io ho molto sonno Pure io Però sto facendo Le live Per voi Solo per voi Come ciccio gamer Lo faccio per voi Fai le live Gli Instagram Ti tocchi Tu beh Ad avere tre telefoni Sì C'è una confusione Sì c'è un po' di confusione Però Volevo provare un attimo A Fare questa cosa qua Vediamo ragazzi Chi mi ha cominciato a seguire Ok perfetto Federica Basile 1 Stellato Giulia Trattilo Basso Alessia Giaccarini Oddio ciao amore Sono ancora io Bella Donna andate con tutte e due Cos Raga Già che non capisco niente di mio Perché ho due live accese In più se mi scrivete queste cose qua Non capisco giuro Come ti chiami su Instagram Lucas.official Con la k Mi raccomando raga Con la k Con la k Io non ti trovo su insta Ma come Ma ti avrò mica bloccato Ti hai seguito Bella raga Bella bella Un tot Ora devo andare a fare una recita Secondo te come andrà Spero per te tutto bene Un bacione E in bocca al lupo B B Trattino Basso Sofia Gandolfo Punto Cristian E altri Sei cambiato molto In questi anni Sì raga Ma penso un po' tu Aiuto Aiuto Intendo C'è una confusione Con due live accese E appunto Quello è vero Sto coccolando il mio gatto Uh che bello Che scuola fai? Faccio un tecnico Raga Cosa mangerai dopo? Ehm Mi chiederò la ceci Il ricciolino Uh Hai visto? Sì Sono stra belli i ricciolini Ringraziamo il papi Per i ricciolini Ti ho iniziato a seguire Bella Grande Peter Sei troppo simpatico Ma grazie Ma non dire così Dai su Che mi emoziono dopo Di dove sei? Sono di Brescia 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 Ma perché non te li fai toccare? Ma io ho mai detto questo A me comunque piace Quando me li toccano Però non è che Tipo spugna così Un pochino Non troppo Ora vado a seguirti Con l'account di mamma Grande Grande Ciao Ginger Siamo messi Bene Su TikTok 100 Su Sì Su TikTok 100 Mi diverto troppo Quando fai due live Vediamo Ci ha cominciato a seguire La mamma Della Anita Sì Che c'è? No Questo è nulla Cilina Bella Tutto bene? Tutto bene Comunque sei troppo bello Grazie Fortunato che Chi si Beh Beh Non lo so Fortunato Chi ti si prende Ma lo schermo di là Messi dentro Bene il cavo Che si è spento Ah si è spento Sei figo Grazie Grazie Sì sì C'è acceso PC Allora vediamo Raga come si dice Perché non state Dicendo in tantissimi Sarà sicuramente Qualcosa di ambiguo Guarda il mare In finlandese Vediamo adesso Sono proprio curioso Di vedere come si dice Allora Ma fallo dire ad Alexa Ha detto che non può Che non ha il Alexa Come si dice Guarda il mare In finlandese Non parlo ancora finlandese Quindi ho inviato La traduzione Alla Alexa Capito Vediamo Allora guarda Il Ciao Ciao Mi ha preparato La cena Raga Scusami Ti ho detto Quando il forno è caldo Grazie Ma quando Cazzo Merda Oh Esatto Fai per 5 minuti Non so Raga sentite come si dice Di solito Stanno entro Una ventina Sì Ma il grande Lo vedi Quando è cotto Il pesce Giusto Non sai Si possono fare Le live da tiktok Certo Se si hanno mille follower Sì Ciao ceci Raga sentiamo come si dice Guarda il mare in finlandese Cazzo merda Ah è vero Bella E invece poi mi hanno detto Guarda la montagna In finlandese? Sì Sempre in finlandese Ok vediamo Guarda la montagna Quello in italiano? Sì Quazzo burda Luca Guarda che si è spento Ancora si è spento Comunque è finlandese Non è una parolaccia Raga Troppo bello Quando sorridi Grazie Ma cosa Eh ma infatti Aiuto Lisa mi porti un fazzoletto Per favore Per stare in tema Sempre stare in tema Sei stupendo Riccio con la schiuma Ma ti preferisco Senza di essa Senza che? Senza la schiuma Senza la schiuma Senza la schiuma Per i capelli Raga scusate un attimo Un momento Soffiare Il naso Il nello Guarda la Cosa fai per Capodanno? Vado a casa di amici Meglio senza è vero No raga Mi piacciono un botto Così i capelli Troppo A modi paglia Non mi piacciono Gusti miei personali La fa la ceci la live Eh resta andando in palestra Sei Dio Ehi Non lo so Rick Io faccio il pigiama party con te Da quando scusa Ah davvero? Non lo sapevo Ma davvero? Ti vedo da quando Hai denunciato quelli Bella un tot Sei figo con i ricci Vedi sono i miei capelli naturali Non come Come altre che si fanno La Permanente Riccia Sì è vero Ricci si nasce Non si diventa E io Lo nacqui E io Lo nacqui Luca mi dai quei kiwi Farai degli incontri Allora Per ora raga Da solo Cioè non me la sento ancora Ho paura Però comunque Ci vedrà tra un po' Dai Vediamo Comunque Vi aggiorno sempre Appunto su Instagram Su Youtube Nelle storie All'inizio dei video Se proprio 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 Un incontro importantissimo Instagram si C'è Lucas.official 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 Sempre quello Vedete che siano interrotti i messaggi E E lì comunque Vi do tutte le notizie In caso Ci fossero ulteriori Double tap O comunque Eventi Eventi in generale Anche degli incontri Che facciamo noi Anche se in realtà Non so Perché ho visto delle storie Di TikToker Che comunque conosco Che erano appunto Allo scorso incontro Di Che c'è stato lì a Milano E mi hanno detto Che non Probabilmente Non si farà più Nessun incontro Libero almeno Libero 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 come l'aria Libero come l'aria Grazie mille Cliem Per i pandini Grazie mille Aiuto Conosci Giorgio Mora Allora So che anche lui Di Brescia Però Non lo conosco Mi farebbe piacere Però conoscerlo Sarà simpa Ciao Me ne devo andare Bella 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 Sto guardando Un film triste Ma come Mi fai a guardare Il film Se sei in diretta Curiosa Questa cosa Perfa Cos Sono di Brescia Bella Conosci Q4 Allora Non mi conosco Di persona Mi conosco Per i video E basta Guardavo i due video Dove flippavi Qualsiasi cosa Grande Bella Broski Bella Che dei tempi Cavolo Scusate ragazzi Guardo magari un attimo Di qua O appunto di qua Ma ho due live Insieme E si fa quel che si può So dove abiti Oddio Aiuto Questa cosa è preoccupante Ora che siamo a 400 like su YouTube Bella 400 like su YouTube Ciao Erica Ma dove si è cambiato un sacco Male 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 Quello è il mio colore preferito Rosso Grande Lii a un sun cream Un sun cream Bella peria Ti piace il collegio? Allora, sì, devo dire che Mi fa sbrattare dalle risate, quindi sì Elia, quattro panda, grazie Mi raccomando ragazzi, seguitelo Lucas, dove vivi? Sarebbe troppo scontato dire a casa mia A Brescia A Brescia Sì, sì, sì Sto scherzando comunque Perché Giorgio Mora è il mio fratellastro Bella per Giorgio Mora La TikToker che mi piace di più Sicuramente Zanotte and the Scorlisa Quella TikToker lì, mamma mia Bellissima È la mia crush definitiva Di TikToker Non mi fa guardare La tua live su Insta Ma non lo sto facendo su Insta Che non è la Manca solo quello Manca solo quello Manca un altro telefono Forse una volta Forse una volta sì Forse ma perché si è cambiato così tanto Prima eri più sexy con la faccia di Galilea Te ne ho mai contattato su Insta Sì raga troppe volte Più che altro se avete il mio numero Non scrivetemi perché Perché aiuto Sì ma ormai non c'è neanche più gusto Cavolo c'è Cosa vuol dire Non c'è più gusto Perché ti fanno troppa televersa Ti dicono Ciao Lucas Sono un tuo grandissimo fan Però non mi bloccare Ti prego Ti prego E quindi non blocchi E voi non blocchi Ciao Perché cominciano bombardamenti di domande Ma ciao No non ho capito dove si mettono in teoria Però tu qua hai sbriciolato tutto Vengo da TikTok Bella Grande Ho il tela 5% Mettilo subito in carica Dai su 5% Rispondi per favore su Insta Ce n'hai il cavo? No non io Ha detto lui Ma anche tu devi caricare il telefono Eh sì Non so dove sia il cavo Che ti mangia il cavo? Che mi mangia Ma io non mangio il cavo Aia Con i cavi ci mangi Sei sempre Carino sia riccio che liscio Liscio non lo so Però riccio dai Sono Sono accettabile Non so se sia Si è in carica Sono ritornato Sono ritornato più forte Sei fidanzato No Paraparaparapapam Il gelo di Gavanna Finanziamoci Ah ok Proprio così senza Senza Conoscerci Senza Senza conoscerci Ah ok Senza problemi Fidati di stai benissimo Anche liscio Va bene Mi fido Mi fido di te Allora se sei single Ci sono due per te Chiudo Qualche mese fa ti ho incontrato a Campo Marte Bella per Campo Marte Ah ma che biscotto ha mangiato la Lisa? Con la Nutella Ah ha mangiato lui della Biscuits Ah Ti ho visto al sushi per chiederti la foto Stavo mangiando Magari non era un bel momento Però dopo ho mangiato sicuramente si L'avrei fatta la foto Ah quindi ieri? Sì penso ieri Mi spazio Non trova il forno E' vero E ora come si è messi qua? Un po' confusionato 104 su TikTok 115 su YouTube Bella Si stanno combattendo Bella raga Bella raga giorno di paga Come mai? Metti dentro la spina La che non è dentro Guarda il computer Grazie Mamma mia Stica 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 Allora 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 Vediamo un po' Vado a mangiare i sassi Buoni i sassi I sassi I sassi I sassi I sassi Io sono i sassi I sassi Guarda su Streamlabs Streamlabs Andiamo a vedere Sì 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 Se c'è qualcosa Vediamo chi è iniziato a seguire Luca Su YouTube Esatto Emanuele Pellegrino Si è iscritto Eh ma Per me non è Aggiornato Beh Emanuele Pellegrino Facciamo un giorno Emanuele Pellegrino Grazie mille Poi abbiamo Vabbè la X Il dashboard Il dashboard Sono fuori casa Tu lo sai Cavolo Aiuto Che fuori casa Una ragazza Mi ha scritto che è fuori Esci dalla finestra Aiuto È fuori casa tua Sì Prendi freddo Prendi freddo Cavolo Entra pure in casa No che entra in casa Sta almeno in macchina In macchina Sì infatti Quindi stiamo dicendo Fabio Fabio Storto No poverino Ma perché Si è fatto male Si è fatto male Fabio Storto Si è fatto male Comunque Sei iscritto E Elisa Braico Si è iscritta Al canale YouTube In questo momento Oh Che ne pensi di Eleonora Olivieri PS sto volendo la live Sia qua Che su TikTok Grande Grande Della Ele Penso che Tantaratantan Cosa pensare Vabbè è una bella ragazza Pazza Ed è molto simpatica Che telefono hai Un iPhone X Ga Ghino Gaghino Gaghino CZ Si è iscritto al canale di Lucas No ma te no Sei serio Ga Non Non Ga Con la g Gaghino Cosa che c'era Niente Non c'è niente da mangiare Non c'è niente da mangiare Non c'è niente da mangiare Che vuoi mangiare scusa Ho un 130 su TikTok Ha superato qua No siamo lì Siamo lì 130 136 Senti tutti Boni State bene Boni 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 Ho una cotta per te A me piacciono quelle che scrivono Posso chiedere una cosa E non la chiedo È vero Mi fa impazzire ma questa cosa E chiedi la sta cosa Posso chiedere E non la chiedo Magari stanno lì mesi e mesi e mesi E non la chiedo È vero Comunque vabbè Diego Fulmine Si è iscritto adesso Maria Elisa Corrado Si è iscritta su YouTube Grande Posso chiedere una cosa E non la chiede Vabbè penso l'abbia fatta apposso Non chiederla allora Non chiedere Posso rispondere alla domanda Volevo chiederti una foto Ma non ti volevo disturbare No tranquilla Quando mi fermate raga Per strada ovunque Cioè Fermatemi pure che Suncream Elia Suncream Elia Grande Elia Miri quando seguitelo Grande Elia Oh Davi 2001 80 Ecco che numero è Davi 200 180 Ha donato 1 euro Grande Grazie Davi Se metto i sottotitoli I tuoi video Me li approvi Certo Anzi Noi ringraziamo Tantissimo Si Ci aiuta a mettere I sottotitoli Nel video E Se fai questo lavoro Veramente Sei un grandissimo fan Assurdo sei un grande Ho perduto ora per niente No no Non perdi per niente Gli ultimi che ho messo Un settimana fa Non mi hanno ancora approvati Eh Forse perché non siamo andati a vedere Eh Dobbiamo andare a vedere Dobbiamo andare a vedere Comunque grazie Davi 200 180 Grazie mille Oltre a perdonato È colui che sta andando a mettere I sottotitoli e i video Gg per lui Chi non può fare Sì sì Grazie Oh siamo in 156 Su youtube 159 Sta aumentando tantissimo Non so il motivo Grandi A caso E 122 su tiktok E 162 Ma sei riccio naturale Sì Sì Anch'io Anch'io Quando posso dirti a trovare Ah non lo so Ora Qua Va benissimo Quando vuoi Ti pensa un po' Se storia Non riesco a donare i soldi Che bello Avere due live così Eh Impazzisci un pochino Non so lo guardare Anch'io Quindi Cutie Beauty Sei iscritto al canale di youtube Di lucas Cutie Cutie Beauty Ma come state Ho un po' di raffreddore Però tutto bene You're such a f I love it I love it Buon fine anno Inizio 2020 Posso chiederti una cosa? Te l'ho chiesto Perfetto Bene Posiamo così Aiuto Sto la prima Senza domande Conosci Peyton Certo Mio fratello La mamma ti segue anche su youtube La mamma della Anita Bene Tutta la family Tutta la family E se non è che vado a mettere il pesciolino Sì Infatti Nel forno Ma tu papà come si chiama? No aspetta aspetta No 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 Aspetta aspetta Tu papà come si chiama? Raga Glielo potete dire voi Sì infatti Diteglielo voi Giustamente c'è anche qualcuno Che non è che guarda tutti i video Tutti i video Tutti i video Però Però È normale Comunque Come potete dire voi Fate una gentilezza Grazie 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 Si chiama M M Sto scrivendo Grazie 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 Ma è stasera a Capodanno Ma come? C'è l'orologio un po' indietro No un po' Un po' avanti Un po' avanti e un po' indietro Un po' avanti Vado a mettere il pesciolino nel forno Ecco nel forno Oddio Mi hanno chiesto una cosa un po' Cosa? Cosa ne pensi dei black boys È una domanda un po' particolare Se muover le orecchie Boh Penso di sì Mi dispiace Me ne devo andare No Mi dispiace Devo andare Cos'è per te il senso della vita? Inception Aspetta Ti faccio una domanda Cos'è il senso della vita? Shish Sbagliato 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 Che bei capelli 05 non le accetto assolutamente No Non mi sta bene Aiuto Troppo vecchie Troppo vecchie No va bene Non basta Anche io faccio Anche io faccio sta battuta Perché lo dici così? Sì Magari mi dico No ma sei pazzo Le 05 No Troppo vecchie Ma il 05 C'è un 14 anni No 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 Sì Perché no? Sì Le 05 C'è un 14 anni Compiuti Compiuti Perché ormai Siamo a fine anno Metti Quindi scusami Avete due anni di differenza Non è che avete chissà chi No Fatti Poi una 05 Di gennaio È praticamente Adesso Compie 15 anni È nato Eh Cioè Distinguiamo Lungure Però dopo Non sono cose che mi riguardano Sì sì Infatti 0-9 No 0-9 Fate voi 0-9 Eh Sageriamo Troppo vecchie 9 È troppo vecchie 9 10 anni C'era qui D'alementare No raga Cioè No Beh di no raga 0-9 Lasciamole lì Per ora Mamma Sei il mio senso Di vita Sei il mio senso Della vita Una 05 Diesel Costa 0-0 0-0 Ci sta 0-0 Beh 19 anni 2000 Che fai Te ne aprivi E che fai Te ne aprivi Vediamo se qualcuno Si iscrive al canale YouTube Sono pronto A leggere i nomi Sono pronto Adesso tutti Che si disiscrivono E si riscrivono No Se si disiscrivono E si riscrivono Non li leggo Come fai da perlo Me li ricordo Ah ok E poi viene fuori Se uno si è tolto E si è rimesso Davvero Ah è vero È vero C'è una funzione lì Allora 1-2-3-4-5-6-thousand Ricordiamoci il pesce nel forno Fino alle 20 minuti circa Ok Me li ricorderò Eh ciao Ricorderò Cioè Il pesce che brucia Ma ciao 0-2 Va benissimo 0-2 È perfetto Le mie preferite Sì? Sì Davvero? No Non lo so Ma è Instagram anche Eh raga Instagram Eh come faccio Da qua Eh lì non è aggiornato Ma figurati Vedi che c'è questo Lo metto Guarda Guarda Quello non è aggiornato Vai Deve aggiornare Deve aggiornare Deve aggiornare Instagram Ragazzi mi raccomando Seguitemi Lucas Poi devo andare qua Pugio official E poi devo andare qua Rabiato Stavo leggendo il nome Esatto Beatrice Amalfa Fedasso Ma non ti vergogni Eh anche tu Infatti un pochino No Questo ragazzo qua Ti giuro Mi fa sempre morire Da ridere Sì? Sì sì Eh Eh Boh A volte parla A caso Ma fa lo stesso ridere Perché ha un modo Di parlare Ma è un tiktoker? Sì un tiktoker Ah ok Antonio Che Guevara Che cazzo si chiama Che cazzo si chiama Che cazzo si chiama Sincenz Sicenz 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 Cioè no Cognome semplice Ha iniziato a seguirti su Instagram Instagram Ma anche Lo.renzo Buona Stasia Grazie mille Grazie mille Bandino Lo.renzo 66 Ti ha iniziato a seguire Ma anche Io due Rabiato Draogo 39 54546 Guarda sul mio telefono Yeah No no Spero di no Non penso proprio Fai collaborazioni Ne ho fatta una oggi raga Sul mio canale YouTube Mi raccomando Andatela a vedere Andatela a vedere Grazie mille Grazie mille Anastasia Oh Italianend Seguite l'Anastasia Seguite l'Anastasia Su TikTok Cioè vi ricordo Che stiamo facendo Due live In contemporanea Anche seguire i commenti Diventa Abbastanza dura Perché vi seguire Sia di qua Che di Se magari poi ti dimentichi Di avere una doppia live Sì infatti E anche una doppia vita Una doppia vita Stiamo guardando Un po' Tutto quello Che riusciamo a guardare Grazie mille Anastasia Per i pandini E per l'Italianend Grande È logico Che chi dona C'ha un attimo Di Diciamo Attenzione in più Perché ci compare Una cosa così Quando Sì infatti Compara una roba Grossa così Non pensate male Perché qua Un attimo Su tiktok Magari metti Una roba Un pochino Eh Ma sembra Quella roba lì Ma non ci credo Mamma mia Ma il tuo merchandising Il merchandising Di Luca Teoricamente C'è solo che L'ho trovato Sul sito Di toomatch.tv C'è qualche Maglietta ancora Tra l'altro È in super saldo Saldo Perché ci sono i saldi Esatto Il comando Toomatch È scritto con due Duematch.tv Duematch.tv Trovate le mie magliette Esatto Ci sono anche quelle di Però magari Più avanti Se Se mi verrà In realtà Io l'idea ce l'ho in testa Guarda questa domanda Ma in tiktok Ma come Ma come Ma allora In live di là Siamo in live su tiktok No ho fatto così Scusate Lucas.official Come anche su instagram Appunto Già Esatto Che in mente Cos'è che hai in mente Scusate In realtà In merchandising Ce l'avevo già in mente Ah Ok Che è carino Allora sì Non spoileriamo niente Non spoileriamo niente C'è un qualcosa In progetto Per il merchandising Che potrebbe essere carino Sì Potrebbe Potrebbe Vediamo 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 Dove sempre fare un po' Di Poi raga C'è in ballo Il filtro di instagram Da Tre settimane È un parto Non riesco a partire Non riesco a partire È una roba assurda Tre settimane fa Sono un mese fa Ho cominciato a Pensare all'idea Come poi farlo fare Da un grafico Così E l'abbiamo fatto E l'abbiamo fatto Solo che poi È stata in approvazione Per due o tre settimane Ho detto Aspetta un attimo C'è qualcosa Che non va qua Eccolo qua Oh Anastasia Grazie mille Per i pandini E per Gli italianende Non attivo Questa è la campanella qua Hai la campanella Da vivere Ah ricordi Proviamo aggiornare Vediamo se Vediamo se È stato provato In fase di analisi Che palle Quante volte mi hai detto Ma che palle Cioè dal 10 di dicembre Mamma mia assurda Sono 20 giorni Perché di solito Ci vogliono 10 giorni Noi 20 Noi 20 Perché noi siamo speciali Non sappiamo ancora nulla Bella compà Bella Aiuto Ma non l'hai Rimandato tipo L'altro giorno Oggi Eh infatti oggi Oggi l'abbiamo rimandato Non avevo richiesto Però è passato solo Qualche ora No no infatti Beh qualche ora D'altronde Ecco sì E se ti iscrivo su insta Scrivimi Scrivimi su insta Andiamo a giornale instagram Andiamo a vedere Andiamo a vedere Chi sei iscritto su instagram Abbiamo anche Bisogni.luca Bisogni.luca Esatto Hai iniziato a seguire Lucas.official Bella Dai però Stiamo salutando un po' tutti Tra poco Ok Stiamo veramente Stiamo salutando Un botto di gente Comunque Sì esatto Nel sempre Nel limite del possibile Non vi potete lamentare Già Dunque 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 Avevamo detto Che facciamovamo vedere Il Nutella biscuit Giusto? Sì Gigante Esatto Che abbiamo fatto Qualche giorno fa Quindi non ce l'abbiamo Intero Intero Però Ce l'abbiamo Lisa È mangiato tutto Sì sì Ecco presente Chi sei Tranquilla Bisogna vedere Il pesciolino Abbiamo qua dentro Il Nutella biscuit Qua dentro C'è tutto pieno Quindi C'è un profumo Immaginate quanto era grande Comunque ci sono i video Sia di Lucas Anche tu l'hai già messo Il video dove c'è il Nutella biscuit Gigante No? C'è il video sul TikTok della Ceci Nutella biscuit gigante Vi facciamo vedere Ma proprio Così eh Attenzione 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 Mamma che profumo Che è uscito da qua Oh concert Concert Anastasia Anastasia Grande Grazie mille per il concert Seguite Anastasia Seguite Anastasia Aspetta Trattino basso Official 2019 Grazie mille Anastasia Grazie Anastasia Stavamo dicendo che Viene un profumo incredibile Da questo Questo è quello che rimane Del Nutella biscuit gigante Che abbiamo frantumato Lo vedete? Vedete il pezzettone Di Nutella lì? Cavolo raga Una roba Mamma mia Facciamo vedere anche qua Su Youtube Sì sì Mamma mia Qua è pieno ceppo Di roba La vedete? Perché sento Misto tra pesce E Nutella biscuit Il pesce è quello Che sto mettendo Nel forno E cosa c'entra? Eh ma sento Perfumo di pesce io Guardate che roba Logicamente l'abbiamo Rotto per mettere Per metterlo qua dentro Ma questo è tutto Nutella biscuit gigante E penso che ce ne abbiamo Per Tipo un paio di me Mamma mia E vabbè Mi raccomando Non mangiate troppo Sotto le feste Esatto Se no dopo Piangete Se no dopo Rotolate Vado a vedere Il pesciolino Nel forno Ecco esatto Sono passati Dieci minuti Ora non tanto Mi dicono che Il papà di una ragazza Che è qua in live Lavora con te Ma se tu sei singolo Che papà Che cosa? Papà di una ragazza Che mi segue Sì Lavora con te Com'è che è possibile Scusami Mi sembra un po' Sì ma su TikTok Su che cosa? Si chiama La figlia si chiama Sere Danza Boh Eh non so Boh Com'è che si chiama tuo papà Scusa? Per curiosità Se no dopo diventiamo Di letti Aspetta mi sono perso qualcosa O non è la Playstation Certo Luca Love you Grazie Qua va tutto bene? Sto già arrotolando Il pesce non è ancora bruciato Eeeh Sì ma tutto bene Grande Che ha donato il concert lì Anastasia Grande Subito Anastasia Ragazzi adesso ve la rimensiono Ve la rimensiono Anastasia Aiuto Dov'è Anastasia? Eccola Cosa? Allora Parà Ragazzi Vi ho menzionato qua Anastasia nei commenti Seguitela mi raccomando La live c'è anche su Insta No raga non c'è su Insta Però Se volete seguirmi su Instagram Lucas.official Potete farlo Mi fate Un favore Canto una canzone No raga Faccio schifo a cantare Ve lo giuro Meglio Meglio di no Meglio di no Quanto bello sei Grazie Mi stavo strozzando Oddio Tutella Eh L'abbiamo già fatto vedere L'abbiamo già fatto vedere Prima Mi avete rotto il pifero Addirittura Scusami però Quella Lucas Penso volevi scrivere Bella Lucas C'è il cenone di Capodanno O non c'è la pizza Cenone di Capodanno Sto parlando con la Lisa Sì sì Oh Chi c'è qua? Eh Chi c'è qua? C'è la mia sorellina bellissima Bella Luca Ciao Lisa Ecco Ciao Qual è la tua muser Preferita Qua c'è ancora musical No Qual è la tua tiktoker Preferita Lisa? La ceci La ceci La ceci Ceci official Anche io sto mangiando Il pesce Bella Bella Che bei capelli Grazie Che bella faccia Ok No Sì 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 Ecco dove tocchi Tu fai Ci sono casincino Danni Dangerous Ti amo come un anabolizzante A mediaboli di cuore Cos'è Cos'è che era un anabolizzante Anabolizzante non sono quelle che prendono i palestrati Eh infatti Eh infatti Che si Eh infatti mi ricordavo anche che fosse un Che fosse una palestrata Va beh ok Penso fosse una battuta a questo punto È una similitudine Cosa mangi per essere così spesso Tanti carboidrati Tanti carboidrati Però Cioè Di contorno Mangio robe sane Tanta insalata poi Tante verdure E frutta Niente bibite gasate Niente bibite gasate Niente pane No in realtà no Pane sì Sì Tipo merenda mangio il pane con Quello integrale O quello con i cereali Non quello Normale Fede Eh non lo so C'ho tipo due telefoni in mano Eh come faccio pa Appoggia Bravo Grandissimo C'è staccato il cavo Io non voglio Non tirare troppo Ok Ok Ci rischiamo Scusate Scusate per l'interruzione Dove che sei guattato? Non lo so Questa qui Lì in mezzo Quanto c'è lei Niente settimana? Quattro Barra Sì Quattro Barra quattro Quattro barra cinque volte Dipende un po' Io ora vado a editare qualcosa per domani Per la page Oh che carina Grazie mille Anita Dopo mandameli su Instagram Io devo andare Torno dopo se posso Ciao Ciao Volevo dire che mio padre lo conosce di persona Ah ok ok E ma come si chiama? E non lo so Qual è il tuo cibo preferito? Sushi Sushi sì Buono Buonissimo No raga a parte gli scherzi La pasta raga La pasta Buonissima La pasta La sto cominciando a riapprezzare in questo periodo È il pesce Ah è il pesce Sento Sento freddo i piedi Ho appena aperto Ah ok No no pensiamo Aiuto Io sto guardando il video mentre mangio Che brava Grande Come fai a fare le live allora su TikTok bisogna avere più di mille followers 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 Grazie No Followers Cosa? Eh scania team Buona No è arrivato Grande Ciao Tutto bene Da che lato? Da che lato? Quale dei 5 schermi? Quale dei 500 schermi? Sei di Brescia? Sì Sono di Brescia Sono di casa Sono di casa mia Che programma usi per editare? Final Cut Pro Che è entrata a Camibu? Ho visto una scritta gialla Luca ti dono 50 euro E un saluto da Nicola Bella per Nicola Se ti tagli un pezzo di ciuffo ti dono 50 euro Paypal mi raccomando Prima i 50 euro Ecco E mi taglia lui il ciuffo Mi rasa a zero Luca Luca Faccio pure un video su TikTok giuro 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 Fran Giuro giuro Ti do un migliaio di centesimi del Kenya Scelini del Kenya Sì Non puoi buttarli Eh ma Si fa la scorta Faccio Per ricordo Ehi tutto bene? Bene grazie Oddio Scania Team Scania Team Dopo quanto tempo Da l'ultima line Da l'ultima line Da quanto tempo Da quanto tempo Scania Team Io ho messo a caricare Bella Mamma mia Assurdo Mi ho fatto fare tipo Cento flessioni Matto Assurdo Assurdo Luca Quante GoPro hai? Ne ho una Ma Cioè Non è una GoPro Cioè Una sottomalca Però va comunque a vene È comunque in 4K Hai le vene sporgenti Sì Sì Appena appena Te le vedi Un po' di Le vene Ma sai che non lo so È una roba assurda Lancia un sicco le cicle Sicco le cicle Eh ma non c'ho la voce Mamma mia Ma quanto cavolo Si è cambiato Mi ricordo Quando avevi i capelli lunghi Hai visto? Direi che è pronto Direi di sì Non ci possiamo fidare Sesso sesso L'aragno Sesso 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 Il tuo sentimo sesso Il tuo sentimo sesto Quello da ragno L'aragno Ciuma Questo silenzio cos'è Pippo No Chi era? Spugna Questo silenzio cos'è Vai la parecchia Panno su pane Lavoro al panificio Città gocci Vivo la bella vita Bello la fortuna Ehi Cosa? Cosa c'è? L'ha conosciuto quella canzone No ma Sì Qualcosa di strano Sì 200 euro Ci vedi tutti Ciao 200 euro Fai un video Dove ti tagli il ciuffo Ma a quale scopo? Scusami Allo scopo di Fare un video La bocca lì Che non mi piace Scusami però Io faccio quello che voglio Hai capito? Sono indipendente Se in più Hai Opa Ha detto che Questa ragazza dice Che se ho il pomodadamo Mi sposa Davvero? Ma dipende Vieni a vedere Se tu sei d'accordo Se è sporgente Il pomodadamo Dallamo va bene Capito? Ma succede Torni a sporrarla L'hai vista Non so neanche Chi sia questa ragazza Ciao Cammi Tutto bene? Tu che non ti sposano Tu? Beh non è proprio Ovvio Ma se il tovolino Con la voce di prima Io sono Io sono Io sono Indipendente Siamo No No Fra Tutto bene Tu? A posto? No Questa non ci stava A posto A posto? Ma è No era Charlie 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 cammello Cammello da me Spugna Ti do mille euro Se ti tagli i capelli Vai Subito su Paypal Dai Yeah Prima mille euro Prima dammi mille euro Luca Però ti tagli No Pane si fana Cinque volte Do Bella Luca Cinquecento Oh cinquecento Ho il tuo pane su pane Oh cinquecento euro Lisa Vai ridillo Pane su pane Lavora al pannificio Cinthagucci Vi vuole la bella vita Che non lascio più io Bene Ragazzi Dimmi Allora Che cosa stai facendo? Cinthagucci Vi vuole la bella vita A posto grazie È pronto Ah no Cosa fai? Spugna Ma Lisa Quindi spengo la live Quale delle due? Io ho fame Ho fame Amo la tua voce Ok Ma no Ma fa schifo Lisa Aiuto fa schifo In questo momento Cioè Farate Perché non Quanti anni hai? Ho tipo il mal di gola Luca quanti anni hai? Con quant'enne? Aspetta Due Dai Conta un cazzo Ma dai Era un po' Era un po' Disturbato il segnale Quindi non l'avevo capito Dai Te l'hanno chiesto Ne ho 16 Vieni su insta dopo Ok Vengo su insta Ma perché su Su tiktok hai messo La data di nascita Sbagliata? Perché scusa? Ma hai Sbagliato a scrivere Non so se ti sei accorto Non è vero che l'ho sbagliata Ho messo Ho messo 15 10 09 200 E poi ce l'asterisco Cosa? Perché faccio 200? Non è 200 Cioè sarebbe tipo Sarebbe tipo 2000 qualcosa Eh sì Ok Un po' rostito Ragazzi Se volete essere salutati Da Nicola In direct Bella Eh questo autista Qua che è matto Cioè È simpaticissimo Passa un attimo Dai S word again S word again No Alisa No Alisa Godo Come un Un riccio Un riccio Come un riccio Appena nato Appena nato Da poche ore Cosa? Si è attaccato alla carta Bravo Davvero? Si è attaccato alla carta Si è attaccato alla carta Luca aspetta Hai qualcosa nel mio No Alisa Stai ferma Lisa Lisa Mamma mia Sei rispettosa Mia sorella Ma poi non gli faccio niente Di che Ti metto un dito Nell'orecchio C'è una bella vita Dov'è la ceci? E' a fare la No scherzo E' a fare la lezione di yoga No è la lezione di yoga Come che era gag? Di che in palestra che si fa prima Esatto C'è a fare In palestra No non è yoga È gag E godo come un riccio E godo come un riccio Quante volte mangia la settimana? 7 giorni su 7 24 ore su 20 Allora Calcolando che Mediamente Quando Luca di che mani 7 giorni su 7 No Ah no Tipo l'altro giorno Perché la vedete un po' particolare Ho tipo saltato la colazione E il La cena E il pranzo E la merenda Ho saltato la colazione E il E lo spuntino Perché poi dovevo allenarmi E volevo allenarmi a stomaco vuoto Così svieni Così Svegli Aiuto Non tossire E niente Quindi In quel giorno l'ho fatto Pranzo Merenda Mi veniva il nome Sena E basta Quindi 3 pasti Anche io faccio 3 pasti Non ne faccio 4 5 Tu anche 5 7 Teoricamente però dovrei farne 3 6 Perché 6 Allora Colazione Colazione Spuntino Pranzo Merenda Cena Spuntino dopo cena Spuntino non vuol dire Qualcosa di Vuol dire Non vuol dire Vuol dire Nutella biscuit Tipo non so È un po' d'acqua Una banana E una mela E uno spuntino Dopo cena Per esempio Wow Wow Quando Hai visto TikTok Cat Read Cioè Gatto 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 E poi Ma la busta E la Ma 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 io ti giuro Sto perdendo la voce Ah Ah È pronto È pronto Hanno detto Che sono più simpatica Di te Non è vero Ragazzi Mi raccomando Per ultima volta Seguitemi su Instagram Lucas.official E Se volete appunto Scrivetemi Bella Se volete Scrivetemi Se volete Scrivetemi Basta dire Una volta E noi ragazzi Ci vediamo Alla prossima Live Chissà quando Sarà Potrebbe passare Anche un anno Potrebbe essere L'anno prossimo Alla prossima Live Sai Va bene Potrebbe Potrebbe Ma Non lo sarà Ma È probabile Che lo sia Ok Vi do Io un bacio All'alizzo Per voi Ok Luca Ghidini Ciao Luca Luca Ghidini Eh ciao Ciao Adesso che stiamo Chiudendo la live Fatti Dammi un attimo Un goccio d'acqua Dai Ti do un goccio d'acqua Ti do un goccio d'acqua Ti do un goccio d'acqua Boom Ti do un goccio d'acqua Ciao belli Ciao Ecco un goccio d'acqua È già un anno Che non bevo un anno Beh è un po' che siamo in live No Sarà un paio di orette Quasi Quanto è c'è scritto? 110 minuti 100 E appunto Sono quasi due ore Sì sì Wow 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 Che ti dice Sono secondi quelli No no Quindi gli utenti di TikTok Sono 167 Grande Luca Seguite Luca Ghidini Uno Luca Ghidini Uno Bella Luca Non me lo fa taggare Tagga 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 Non so che dire Neppure io Di che cosa non so che dire No la nemica Ah ok 170 su TikTok 130 su YouTube Wow 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 Ciao Camì Seguite Luca Ghidini Uno Noi siamo Luca Ghidini Eccolo qua Grande Love Banks Ma cos'è 1700? Ho visto bene? No 1700 sono quelli Ah sì A 1700 Grande Luca Grande Luca C'è stato un botto Scusatemi Cresciuto un botto Luca Ghidini Uno Tantissimo Sto bene Camì Siamo in doppia live Ok Perfetto Tanta roba Grazie anche a voi Di nulla Di nulla Luca Di nulla E se noi dobbiamo mangiare il pesciolino Pesciolino E poi che cosa Poi vediamo Un po' di frutta Dobbiamo stare leggeri Che domani c'è il cenone Come il cenone? C'è il cenone Il capodanno C'è Luca Tu ce l'hai forse L'anno scorso Tu niente Non mangi niente Cioè È da un anno Che non mangi Mangierò l'anno prossimo Luca È da un anno Che non mangi È da un anno Che non mangi Sì grazie Tu sì sì grazie Ti saluta la Giorgia La mia cucciola Ciao Giorgia Ciao Ciao Che dici Scrivi su Instagram Così poi ti dico Non sto parlando da solo Sto rispondendo Rispondendo Grande Luca Ghidini Lovebangs 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 Seguite Luca Ghidini Con numero uno Numero Number Number one One Praticamente siamo in 300 online Tra di qua Sì è vero Sì Domani a mezzanotte Si spara Si spara Cambiamoci un attimo Cioè Si spara Si sboccia Non so dove guardare Ah che bello Hai scrocchiatto in diretta Sì Aiaiai Vabbè Allora ragazzi Vi salutiamo Perché dobbiamo cenare Sì esatto Dopo si la fredda Povero pesciolino Poi pesciolino pronto Guardate un po' Stiamo scherzando Adesso cade No no Stare attento Mamma mia Eccoci qui Col pesciolino Ah scusate Eh anche io Pesciolino È pronto Si impiatta A tavola Sì Ragazzi se non ci vediamo Buon anno Ci vediamo l'anno prossimo Anche la ceci vi fa gli auguri Un bacione Grazie mille Perché ci state Seguendo sempre Con passione Purtroppo su youtube Non ci abilitano i commenti Non potete commentare Mamma mia raga Assurdo Però dai un po' su tiktok Un po' su instagram Vi leggiamo Vi leggiamo Grazie mille di tutto Grazie mille di tutto Ragazzi Ragazzi Ciao Ciao Su instagram Non metti le storie Ovvio Certo che le metto Sempre Di bestia anche Di bestia Allora buon anno a tutti Buon anno a tutti raga Ok Ragazzi Ci vediamo l'anno prossimo Ciao belli Bella